12 notebook, altrettanti kit Lego Mindstorms, un grande display interattivo. Ecco gli elementi a servizio delle 24 postazioni che costituiscono la nuova aula di robotica allestita presso la scuola secondaria di primo grado di Seren del Grappa. Promotori dell'iniziativa, in sinergia con il Comune, i volontari dell'Associazione Azzurra e il Casell di Rasai. Noi già da 15 anni collaboriamo con il Comune di Seren del Grappa, l'Istituto Comprensivo, con l'aiuto alle famiglie che lavorano, dove tutti i due i genitori lavorano. Quindi organizziamo il servizio mensa e un'attività pomeridiana nell'orario non curriculare. L'investimento complessivo pari a 25 mila euro vede con partecipe anche il Comune di Seren del Grappa. È un elemento che va a valorizzare il nostro territorio, soprattutto quello che la nostra scuola riesce a dare ai nostri ragazzi. Questo non è soltanto grazie al 10% che il Comune ha messo come cofinanziamento, ma è soprattutto grazie alla grande sinergia che da sempre su questo territorio esiste tra istituzioni e associazioni. È proprio grazie all'Associazione Azzurra e al suo finanziamento, ma alla volontà che ha messo nel riuscire a portare al termine questo progetto, che riusciamo oggi ad avere un qualcosa che esiste solo in poche scuole nel nostro territorio feltrino e questo ci dà un grandissimo orgoglio. La nuova aula di robotica è stata realizzata grazie all'iniziativa di Luoghi e non luoghi I bambini abitano il territorio, un progetto realizzato da Coni Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile, che vede la cooperativa sociale Tib Teatro come capofila. L'obiettivo è creare dei luoghi di aggregazione sociale per bambini, famiglie e per tutta la comunità e dare delle opportunità di crescita e formazione ai bambini. Da gennaio prossimo via dunque il corso pomeridiano di 60 ore destinato ai ragazzi delle medie. Ingegneri, meccanici e ricercatori di domani hanno da oggi un nuovo alleato in uno strumento innovativo in cui si uniscono curiosità e voglia di imparare divertendosi.